Ciao, video lezione su Neo Nevio e Appio Claudio Cieco, che sono due autori di epoca molto arcaica. Una premessa necessaria da fare è che di questi autori non abbiamo solo frammenti, per cui tutto ciò che diremo in questa video lezione è soggetto ad una certa soggettività, discutibilità del dato. Il frammento può appartenere al prologo di una commedia, questo frammento può appartenere alla prima parte di un'opera, all'ultima parte di un'opera non sappiamo molto bene, per cui i diversi critici contemporanei spesso si sono trovati in disaccordo su come interpretare. Però un'idea di massima su questi due autori ce la possiamo fare e vorrei darti pochi concetti di base sempre collegati con la storia della letteratura latina che verrà nei secoli successivi, per cui noi faremo particolare riferimento ovviamente ad alcuni autori o alcune altre opere che troveremo poi nel corso della storia della letteratura latina. Partiamo a due parole sulla biografia di Neo Nevio, nasce in Campania, qualcuno dice proprio a Capua, poco prima di Livio Andronico, ma anche qui la data per noi rimane abbastanza misteriosa, 285-280. Non sappiamo, è cittadino romano, cittadino romano perché? Perché sappiamo che Roma, e ti rimando alla violazione che abbiamo dedicato a questo modo di fare politica esterna che è a Roma in questi primi secoli, che la Capua è una città che riceve per il suo comportamento, o almeno in alcuni strati della società, riceve la cittadinanza romana. Quindi Nevio è un cittadino romano a pieno titolo. E' appunto, diciamo, civitas sine suffragio, capo, no? Per cui una cittadinanza di pieni diritti politici, attivi e passivi, cioè possono eleggere ed essere eletti. In quanto romano combatte contro Cartagena durante la Prima Guerra Punica. Siamo intorno alla metà del III secolo a.C. Questo sarà importante perché l'opera fondamentale di Nevio parlerà proprio di questo. Dopo vedremo. Allestisce le prime fabule, i dati che noi abbiamo lasciano così nel vago il termine. La fabula significa rappresentazione teatrale. Ma è una commedia? È una tragedia? È di argomento greco? È di argomento romano? Non sappiamo. Però, tendenzialmente, sappiamo che le prime rappresentazioni teatrali risalgono a 235 a.C. È un plebeo di nascita, si mette, adesso non sappiamo, anche questo è abbastanza circondato dal ministero, si mette contro la famiglia dei Metelli, una delle gentes più importanti, più antiche e più renomate della Roma di questo periodo. Un frammento a lui attribuito si dice Pato Metelli Rome Fiumt Consules, che gioca sull'ambiguità. Non è lo sconto frontale dicendo che questi Metelli erano dei disgraziati. Gioca sull'ambiguità del termine Fato e sulla ambivalenza, ne riguarderai anche grammatica, del termine Rome. Cioè, per volere del destino, Fato, appunto, i Metelli sono fatti consoli, diventano consoli da Roma. Quindi il Rome è considerato come un genitivo locativo. Possibile interpretazione, tutto sommato, un verso abbastanza neutro. Ma dove sarebbe la novità? La novità sarebbe appunto è nel fatto che si può anche tradurre per la rovina, perché Fato ha questa duplice valenza, anche in italiano, la fin fine fatale, ti rimando alla video-lezione su Horatio, in cui Cleopatra viene definita come Fatale Monstrum, con tutto quel gioco di significati che lega questi due termini. Fato può anche significare per la rovina, lo scontro fatale, fatale apportato alla morte. Appunto, per la rovina di Roma, quindi nel quale Rome non è un genitivo locativo, ma è un genitivo normale, per cui per la rovina di Roma i Metelli sono fatti consoli. Noi non sappiamo valutare se ci sono state conseguenze di questo verso attribuito a Nepio. Sappiamo anche di una ipotetica risposta di Metelli, Malum, Dabunt, quindi i Metelli daranno del male a questo poetastro. Ma insomma, non sappiamo molto bene, anche perché poi non ci dimentichiamo che a Roma il reato, quello che oggi va tanto di moda, cioè il reato di diffamazione, non esisteva. Per cui può darsi che semplicemente Nepio abbia deciso di, appunto, di morire in un esilio, dice Traia, che è il più grande critico che ha studiato i frammenti di Nepio, dice un esilio volontario, cioè vista la mala parata che si stava preparando in patria, ma è meglio allontanarsi, andare in quell'Africa ormai quasi conquistata, in cui poi morire intorno al 204-201. Questa è la vita. Per quanto riguarda la produzione teatrale, c'è una piccola premessa che mi piace farti adesso, insomma, che poi tornerà utile per la storia del teatro, tornerà utile per Plauto, eccetera. La commedia a Roma si divide essenzialmente in due grandi ambiti, cioè in due grandi argomenti, ambientazioni. Da una parte troviamo la palliata, ecco, con la parola pallium, i romani traducevano il nome del mantello greco imation, contrapponendolo così l'abito forestiero, la taglia romana. Quindi, la palliata che cos'è? È la commedia di argomento o di ambientazione greca. Io qui sulla sinistra, con questo termine greco, che metto qui non per sfoggio di cultura, ma per così si rimane impresso, sulla sinistra trovi quelle che sono le rappresentazioni teatrali, in questo caso commedia, di argomento o di ambientazione greca. Invece, la commedia a Roma, cioè ambientata a Roma, di argomento romano che tratta fatti romani, prende il nome di Togata. La toga, sappiamo benissimo, è il principale cavo di vestiario del cittadino romano, era proprio quello che il telaio casalingo, a cui erano detti le donne, riuscivano a produrre. Al sopra della tunica veniva appunto appoggiata, da già drappeggiata questa toga, che quindi connota qualcosa di tipicamente romano. Sulla destra trovi appunto ciò che è di romano, in questo caso la commedia toccata. La tragedia, la tragedia di argomento e di ambientazione greco, prende il nome di Coturnata, il Coturnos, il Coturnos in greco, è lo stivale alto, a mezza gamba, quello che viene utilizzato per la caccia, perché prendono proprio questo come nome, noi abbiamo difficoltà a dirlo, ma di basti che questa è la tragedia di argomento e di ambientazione greca. Lì dove invece troviamo la pretexta, quando ambientata invece a Roma. La toga pretexta era proprio intessuta, con orlo di lana purpura, questo rosso forte, caratteristico di tanti film, anche film peplum, che ti ricorderai di tanta cinematografia italiana, ma non solo, basti pensare al gladiatore, ecco, era usata dai magistrati superiori, consoli, pretori, che rimanda alla video-lezione sulle istituzioni repubblicane del periodo altarepubblicano, i pretori, i licuoruli, i censori, e dagli alti sacerdoti, i pontifici, gli arvali, i fratres arvales, e ti rimanda appunto alla video-lezione sulle prime rappresentazioni della letteratura, chiamiamola così, latina. Quindi questi sono gli ambiti in cui si muove la produzione teatrale latina in generale. Vediamo l'apporto che il Nevio dà a questo tipo di produzione. Perché noi troviamo che il Nevio, appunto come commediocrafo, fu autore soltanto di palliate, quindi commedie di argomento o di ambientazione greca. Tra i tanti frammenti ne salviamo uno, è un frammento significativo della Tarantilla, cioè la ragazza di Taranto, che è una trama, guarda un po', tipicamente plautina, per cui tornerà utile quando affronteremo le video-lezione su Plauto. La trama, ripeto, non è proprio chiarissima, abbiamo frammenti. Qualcuno di qualche credito contemporaneo dice che un frammento, e te lo leggo, mi sembra particolarmente importante, perché ci dice che appunto le cose che qui, c'è un personaggio che a un certo momento prende la parola e dice la seguente frase. Le cose che qui in teatro ho approvato con il mio applauso, questo nessun re può usare di contraddire, di quanto qui la mia condizione servile supera la vostra libertà. è interessante per tantissimi motivi, però non vorrei neanche troppo fermarmi, c'è troppo sopra, perché? Perché prima cosa rompe la finzione scenica, cioè è un personaggio del teatro che sta sulla scena, che parla con il pubblico. vostra è appunto un greco che parla a voi romani, quindi c'è quella rottura della quarta parete, come si chiama tecnicamente in ambito teatrale, che renderà famosa la commedia plaudina. Punto uno. Punto due, beh, dice una cosa interessante, cioè che la vostra, non dice la vostra libertà, nel senso, dice che la libertà che hanno gli schiavi in Grecia di commentare, giudicare, apprezzare o criticare le rappresentazioni teatrali in Grecia è supera a quella che hanno gli uomini libri a Roma, dando per scontato evidentemente che a Roma non si potesse né parlare di politica, se uno scriveva una commedia, né tantomeno criticare questa commedia dal momento che ha una dimensione, questo già l'abbiamo detto in un altro ambito, e lo ti ripeteremo poi nella lezione introduttiva sul teatro, la rappresentazione teatrale ha una fortissima dimensione politica a Roma, quindi criticarla significava in qualche modo criticare anche la politica. Da questo si può arguire che Nevio avesse un forte spirito polemico nei confronti della politica, che assumesse posizioni contro alcuni rappresentanti della politica, da quel poco che sappiamo si può dire di sì, ma, ecco, attenzione sempre, perché su questo invece appunto il professor Traia, che è già citato come grande esperto, su questo è arci sicuro. Io andrei un po' più caudo, perché appunto i frammenti, la frammentarietà dell'opera di questo autore, ci impediscono di fare qualsiasi discorso tassativo, così categorico. C'è questo brano, non sappiamo neanche se fa parte del prologo, chi lo pronuncia? Lo pronuncia uno schiavo greco, uno schiavo greco che si rivolge ad un pubblico ormai? Sappiamo troppo poco. La storiella della commedia di questa falliata dovrebbe essere appunto la storia di una ragazza di facili costumi che in qualche modo raggira due giorni romani, anche questa poi sarà un cliché della commedia plaudina, e quindi i papà di questi due ragazzi in qualche modo incarnano quelli che sono i mores antiqui del romano del terzo secolo avanti Cristo, vanno proprio a Taranto per salvare questi loro figli, Taranto oppure non sappiamo bene dove è ambientata, ma insomma vanno in questa vanno in una città per salvare i loro figli ormai traviati da questa donna, per rimanere poi loro stessi, questi anziani, e anche questa è una tematica reverente in Plauto, ammaliati dalla bellezza, dalla forbizia di questa donna di Taranto, che evidentemente era una prostituta particolarmente intelligente e capace di raggirare un po' chiunque. Ma insomma, ripeto, sappiamo poco e poco possiamo dire. Forse è più interessante rilevare che nel campo della tragedia Nevio è considerato l'inventore della pretesta, cioè la tragedia di argomento romano. In particolare c'è sempre questo ricorso, questo cercare di inseguire l'euretes, l'inventore. Ecco, Nevio è l'inventore della pretesta. Un nome fra tutti, un titolo fra tutti, il Clastidium, Casteggio, anche una località appunto che viene, che diventa il luogo di combattimento fra i Galli Insubri e i Romani. E appunto Marco Valerio Marcello è il grande generale che vince a Casteggio, te lo dico da parentesi perché appunto qualche critico ipotizza che proprio Plauto sia originario di questa città. Non sappiamo o che perlomeno dopo la conquista di questa città arrivasse a Roma. Adesso non sappiamo bene, non sappiamo quasi niente neanche della vita di Plauto, però mi sembra interessante ogni tanto lanciarti qualche input su questi autori più importanti, più rilevanti in Evio. Certamente è un autore minore a me, non fosse alto per la quantità esigua di opere che di lui abbiamo. Viene rappresentata questa, per te, una tragedia evidentemente che parla di morti anche se c'è una pittoria romana perché insomma sono ovviamente morti, battaglie, uccisioni, persone che sicuramente qualche romano morì, per cui viene rappresentata questa tragedia nei ludi funebre in onore di Marco Valerio Marcello proprio del 208 quindi stiamo già scendendo nove di tempo nel corso del terzo secolo sappiamo poco e niente comunque di questa opera fra le coturnate e i frammenti legati a quello che potrebbero essere le coturnate appunto tragedie di ambientazione o di argomento greco c'è proprio l'u-curgus che io ti cito soltanto perché perché in qualche modo richiama le bancari baccanti di Euripide ma perché parla di questo re trace ostile al dio Dioniso il dio del vino della sfrenatezza della irrazionalità eccetera eccetera che Nevio in maniera molto intelligente perché ormai non conosco il termine Dioniso traduce con libero il dio libero è il dio Dioniso tradotto in greco come normalmente appunto gli dèi greci vengono tradotti in latino perché interessante perché questa commedia accenna i culti bacchici che si stavano diffondendo a Roma e in Italia in quel periodo ti ricorderai che nel 186 quindi qualche decennio dopo sarà necessario direttore un senato sconsulto sul dei baccanalibus cosiddetto per vietare impedire il culto perché evidentemente questo culto che dava vita a delle orge dava vita a delle alminio se tutto andava bene a delle grandi ubriacature di massa aveva già creato molti problemi di ordine o disordine pubblico fra cui appunto presumibilmente alcuni morti feriti eccetera eccetera nel 186 Roma il senato romano impedisce la celebrazione di culti orgiastici per Dioniso dato un interessante dal punto di vista culturale del rapporto non sempre positivo fra Grecia e Roma però l'opera per cui noi ricordiamo Nevio è il bellum appennicum presumibilmente dopo la produzione teatrale si dedica alla stesura di questo poema attento quindi non è il resoconto storico della prima guerra punica ma un poema scritto in sette libri anche se la divisione è posteriore a Nevio per motivi scolastici viene diviso in sette libri qualche secolo più tardi scritta in Saturnio attento ancora una volta non è l'esametro greco omerico ma è il Saturnio Saturnio romano l'argomento appunto è la prima guerra punica a cui diciamo nevio prende parte perché è importante quest'opera perché è una prova evidente della sua capacità inventiva cioè non ha un modello sì è vero in Grecia c'era stato c'erano state già alcune opere che avevano trattato opere epiche che avevano trattato di fatti storici quasi contemporanei è vero però non ha modelli non ha modelli sicuramente romani non ha modelli latini devi rispettare il canone epico che vuole la mistione fra realtà e fantasia però si trova davanti alla difficoltà cioè la prima guerra punica l'abbiamo vissuta sappiamo come si è svolta sappiamo dove si è svolta cosa mi invento? ecco l'inventività è proprio questa cioè lascia spazio al fantastico rievocando delle leggende mitiche leggende mitiche legate guarda un po' all'origine di Roma quindi ti rimando alla video lezione sulla nascita di Roma in cui trovare una disamina delle diverse leggende si parla della distruzione di Troia si parla nel senso abbiamo frammenti che ci parlano della distruzione di Troia della storia di Enea del suo approdo sulle coste del Lazio della fondazione di Roma la propria archeologia che ovviamente sarà fonte primaria per la composizione delle Enea di Virgiliana allora io qua ti lascio ovviamente da parte tutto quello che è il dibattito di Franker e dici che ovviamente non sanno dove mettere questo excursus questa parentesi mitologica oppure è un libro intero oppure che non sappiamo ripeto abbiamo una serie abbiamo in tutto una cinquantina di versi di quest'opera per cui puoi inventare anche tu forse la tua versione del bello un pene come c'è la guerra appunto punica ecco questo qua è il dato che noi non sappiamo qualche critica addirittura si lancia nell'individuare in un frammento piuttosto ambiguo addirittura nella figura di Didone per cui Virgilio di fatto non avrebbe inventato quasi nulla è vero l'approccio al mondo mitico è totalmente diverso nel senso che Neonevio parlando in primo luogo della guerra punica ovviamente utilizza il mito come sfondo Virgilio no Virgilio pone al centro il mito e in virtù di questo mito rilegge poi o invita a rileggere l'attualità e il ruolo che ti rimando alle video lezioni su Virgilio che sono su questo molto ricche allora il bello un pene però rappresenta sicuramente un in qualche modo testimonia la capacità inventiva di un autore già fortemente consapevole delle proprie capacità cerca ovviamente non solo di celebrare il passato recente di Roma ma vuole lanciare e questo mi sembra un'interpretazione interessante un messaggio etico politico per il presente cioè adesso nel 218 era appena cominciata la seconda guerra punica la guerra annibalica ecco se Roma vuole sconfiggere l'annibale deve rifarsi ai sacri valori del mos maiorum quindi quello che è il concetto di virtus di pietas di fides eccetera c'è rusticitas la dedizione allo stato l'importanza della collettività sull'importanza del singolo eccetera tutto questo potrebbe essere il messaggio etico politico presente nel bellum panicum per cui nevi scrive un'opera sulla prima guerra punica adesso che è cominciata la seconda guerra punica e allora i romani hanno bisogno di trarre forza da un'opera poetica di alto livello un'opera epica ed è una interpretazione interessante stiamo parlando sempre di interpretazione perché ripeto abbiamo difficoltà a leggere l'opera non ce l'abbiamo allora capisciato solo che pur essendo entrato in contrasto con la nobilità con i metelli poi non sappiamo neanche bene se come perché eccetera però nevio non fa altro che diffondere l'ideologia ufficiale della repubblica aristocratica e questo non è un controsenso perché ancora una volta insisto la dimensione non dico primaria ma insomma è forte la dimensione politica che la letteratura latina ha da sempre avuto in qualche modo è un grande poeta in cui il lozium e il negozium e in qualche modo si associano l'impegno politico come vedremo anche poi con l'altro autore di questa stessa videolezione perché sceglie l'epoca l'epica perché perché ovviamente conosce Omero ed Esiodo la sua nascita a Capua presuppone un passato culturale greco ma al contrario di Livio Andranico ti rimanda alla videolezione sulla odusia di Livio Andranico preferisce un argomento nuovo e in questo modo inaugura quella che è la poesia epica tradizionale che avrà ovviamente poi il suo successore naturale a breve in Ennio negli Annales di Ennio e poi ovviamente nell'Enei di Virgiliana chiudiamo con l'ultimo autore che è Appio Claudio Cieco un uomo politico diciamo prima anche lui un uomo in cui il negozium cioè l'attività politica in primo luogo si accavalla in qualche modo con l'attività letteraria censura nel 312 consola nel 307 e poi nel 296 è considerato l'iniziatore della prosa latina perché? perché abbiamo parti di una sua raccolta di aforismi o procetti il carmen dei sentenzi frammenti ancora una volta non sappiamo carmen dei sentenzi la poesia abbiamo frammenti che non riusciamo bene a capire forse il più famoso che forse conosci senza sapere ancora che è di Appio Claudio Cieco è questo faburum è se sue quenque fortune una infinitiva retta da un verbo diceva Appio Claudio Cieco ti ricordo che noi abbiamo questi frammenti solo per tradizione indiretta cioè sono pezzettini presi da opere di grammatici o di eruditi del primo secolo avanti primo secolo dopo quarto secolo dopo sesto secolo dopo per cui ci dicono Appio Claudio Cieco diceva che ciascuno fosse artifice della sua sorte della sua fortuna del proprio destino fame resto lo conosce forse appunto nella forma non all'infinitiva ma insomma è una frase abbastanza famosa che viene attribuita a questo personaggio sua è la prima orazione trascritta e conservata almeno fino a Cicerona dovremmo poi aspettare appunto due secoli per arrivare a Cicerone di cui abbiamo le relazioni da lui stesso redatte e da lui stesso cioè lui stesso vol Cicerone che vennero volere venissero scritte copiate diffusi divulgate ecco Appio Claudio Cieco è il suo predecessore immediato e c'è un gap di diversi secoli in mezzo per cui è interessante no questa questa orazione lui stesso dice che deve essere trascritta e divulgate e viene letta poi anche nei secoli successivi come esempio di oratoria arcaica che diceva in questa orazione in questo discorso evidentemente forse letto davanti al senato invitava nel 280 dopo la battaglia di Eraclea la pittoria di Pirro ti ricorderai ti rimando alla pittoria che abbiamo dedicato al quadro storico di questo periodo invitava il senato a non stringere alleanze con Pirro sembrava la cosa più naturale il vincitore e beh alliemoci con lui lui dice no assolutamente è un personaggio è un mercenario di fatto era re delle Pirro era venuto per appunto difendere Tard poi va in Sicilia per difendere le città siciliane eccetera eccetera un personaggio che a piccolo sconsiglia di tenere come alleato un ultimo dato te lo lascio sul ius civile perché un liberto in particolare scriva cioè un segretario di app i gloto cieco tale Neo Flavio nel 304 pubblica lo ius civile cosa vuol dire il diritto civile che per un termine abbastanza generico nel senso che noi abbiamo il manuale di diritto civile ma non pubblica questo evidentemente cioè divulga rende pubblico rende di comune conoscenza il calendario con l'indicazione dei giorni nei quali si poteva amministrare la giustizia ti ricorderai che era prerogative del pontefice o dei pontefici quelli di segnare sui calendari quei giorni che erano pasti in cui era pass era lecito amministrare la giustizia i giorni in cui era nefas era illecito non si poteva è uno dei momenti importanti della della diffusione del diritto a Roma e soprattutto della condivisione dello ius romano tutti adesso potevano sapere non soltanto i pontefici non soltanto i nobili ma tutti potevano adesso conoscere quali erano i giorni in cui si poteva amministrare la giustizia e ancora più interessante forse adesso sono pubbliche le formule procedurali con cui legis aziones con cui poter avviare una accusa che prima appunto ripeterà appannaggio soltanto di alcune figure per cui appicolo operative dei nuovi ricchi anche se di provenienza plebea tant'è vero a lui si attribuisce per esempio la costruzione del tempio della concordia concordia ordinum la concordia delle classi che patrizia plebei si dice lui hanno ormai trovato il loro equilibrio sembra appunto in qualche modo anticipare quelle che sono le visioni politiche che saranno proprio di questa famiglia di Scipione che è di qualche decennio successiva ma appunto in qualche modo questo ius flavianum così chiamato appunto 304 è per noi una prova molto importante di una apertura verso appunto le nuove strati della popolazione che vanno emergendo e anche di una certa oculatezza politica nel volerli coinvolgere nel grande progetto romano della conquista del mondo intero ecco apicolato cieco forse il primo oltre a aver fatto a costruire l'acquedotto l'acquedotto appunto che porta l'acqua a Roma aver fatto costruire la via Appia la regina via Arum ecco apicolato cieco ha questi altri aspetti che ce lo rendono un personaggio estremamente importante anche se ancora una volta insisto di lui abbiamo soltanto pochissime notizie e frammenti così che riusciamo a malapena a interpretare alla prossima